amanti del mondo analogico emulato ma soprattutto dei controllers eccoci arrivati a mettere le mani su entrambe le questioni softube sviluppa ottimo emulazioni hardware da diversi anni e ha nel tempo prodotto e distribuito marchi e plugin di una indiscussa qualità basti pensare infatti a tape o vice di s1 che è il graal dei limiter digitali entra nel mercato dei controller con console one non nuovissimo certo ma ho avuto solo ora modo di averlo a disposizione per poterlo stressare come si deve e come si dovrebbe fare in uno studio professionale vediamo quindi di metterlo in moto e vedere realmente fin dove arriva la sua fama durante l'installazione dovremo creare un account sul sito di softube per scaricare i plugin softube console one dal nostro account una volta registrati installiamoli e avviamo studio one che inizierà la scansione e la validazione i plugin installati sono vst e audio unit format e c'è una grossa differenza tra i due formati la vedremo dopo console one si presenta come un hardware degno di nota come vediamo struttura rigida in metallo ben realizzata come anche il resto della componentistica pronta ad essere malmenata per diversi anni il controller si collega via usb come vediamo non necessita di alimentatore al computer e si interfaccia immediatamente con studio one senza dover configurare assolutamente nulla lanciamo ad esempio il plugin all'interno del mixer e la comunicazione con il controller hardware è immediata come vediamo infatti abbiamo già le spie di connessione accese dove possiamo appunto controllare direttamente già tutti i nostri canali abbiamo l'accensione e lo spegnimento di ogni componente come vediamo del nostro controller notiamo subito che per avere una sincronizzazione anche dei nomi della traccia in questo caso leggiamo proprio il nome della traccia qui sopra il nostro channel strip è fondamentale utilizzare la versione vst 3 del plugin altrimenti la versione audio unit facciamo un test quindi quella che gira ovviamente anche sul logic non contiene questo tipo di sincronizzazione e dovremo manualmente cliccare scrivere il nome della traccia aggiungiamo quindi il plugin console one a tutte le tracce del mio mix in questo momento sto utilizzando 64 tracce rimuoviamo selezioniamo tutti i canali tenendo premuto shift copiamoci all'interno il nostro console one vst 3 verrà automaticamente aggiunto ad ogni canale e come vediamo prende immediatamente anche il nome dei canali si sincronizza in maniera rapidissima in questo mio tutorial ho utilizzato una song di mie proprietà per non infrangere il copyright di youtube soft tube consiglia di inserire plugin in tutti i canali non soltanto audio ma anche negli instruments nei bass e negli effetti in questo momento infatti abbiamo ben come dicevo 64 tracce audio le organizziamo velocemente per poter creare anche i bass quindi torniamo nel mio solito sistema di workflow ad esempio tutto ciò che riguarda i sintetizzatori li trasformeremo in prima in una cartella e poi in bass dedicati per poter avere già a disposizione il controllo dei bass e creare poi dei canali effetti da utilizzare durante le fasi di mix una volta corretti anche i nomi delle tracce sul mixer verranno automaticamente sincronizzati questi nomi con il plugin che abbiamo già aperto all'interno di console one la cosa interessante notare noteremo infatti che il peso sulla cpu è estremamente basso questo ci permette quindi anche di lavorare agevolmente su tantissime tracce come se ci trovassimo proprio su un vero banco analogico la song in questione si chiama equitistante l'abbiamo già vista in altri tutorial la trovate anche in versione stems cioè quella che sto utilizzando in questo momento all'interno del corso di studio one artist e di studio one pro per poterci esercitare poi nelle fasi di mix e di mastering per creare questa song ho utilizzato diversi instruments tra cui silent ana e spire che utilizzo tantissimo le tracce di batteria sono state fatte principalmente con addictive drums e con e con kick sempre di sonic academy poi ho utilizzato delle chitarre fatte con guitar rig e le chitarre acustiche sono ovviamente registrate live quindi con il microfono oltre alla voce e i cori che sono stati poi sempre registrati qui in studio ho utilizzato tra i vari sintetizzatori anche zebra della ue molto carino allora ora selezioniamo le tracce che fanno parte della batteria quindi chiaramente tutti tutte le casse i tom tutto ciò che riguarda appunto la batteria gli iat i crash claps crash tranne loop e tranne loop che poi andranno in un gruppo tranne loop che poi andranno in un gruppo separato qui selezioniamo tutta la batteria gli snare chiameremo la cartella drums poi ovviamente faremo anche un bass contenente tutta la batteria quindi selezioniamo sempre tutte le tracce aggiungi bass per le tracce selezionate e abbiamo la batteria anche questo bass ovviamente conterrà il plugin di console one poi li copieremo tutti su tutti i bass che andiamo a fare andiamo a fare il bass per la voce il bass per i cori raggruppiamo tutti gli effetti quindi suoni appunto di rise di boom eccetera eccetera che fanno parte dell'arrangiamento raggruppiamo tutti i synth in un unico bass questo è un mio tipo di workflow che utilizzo spesso per lavorare velocemente sui mix quindi avere a disposizione già sintetizzatori batteria chitarre già divisi su dei bass in maniera da o gruppi in maniera da poter lavorare velocemente anche a sezioni utilissimo soprattutto quando si lavora su mix con tantissime tracce le chitarre acustiche le chitarre elettriche i bassi li mettiamo tutti insieme i loop tutti nello stesso gruppo insieme agli shaker che chiameremo appunto percussion i pianoforti tutti insieme una volta terminato ci troviamo già con tutte le cartelle e i bass pronti copiamo anche in questo caso su ogni bass il console one il plugin in maniera da poter lavorare poi sui bass direttamente lo stesso possiamo fare poi anche sul master bass finale e ora abbiamo coperto tutte le nostre 75 tracce virtuali in audio senza appesantire la cpu in maniera importante un'applicazione bridge viene installata nel sistema per poter connettere la chiamata della do al controller la vediamo in alto in verde sul menu qui sopra eccola possiamo quindi chiudere il plugin e tenere su una finestra separata l'interfaccia del controller andando a premere il pulsante view qui in alto a sinistra come vediamo possiamo portare davanti l'interfaccia bridge esterna facciamo quindi attenzione a non accendere il pulsante auto a meno che non vogliamo avere questa finestra di fronte ogni volta che selezioniamo un plugin all'interno della do è un sistema che torna utile nel momento in cui per esempio utilizziamo due monitor per poter quindi avere due visualizzazioni separate sia del plugin sia dell'interfaccia di soft tube e torna utile ovviamente avere questo tipo di visualizzazione nel momento in cui si lavora ad esempio su un portatile come sto facendo in questo momento e quindi poi necessitiamo di visualizzare velocemente tutte le tracce toccando semplicemente i canali rispetto alle altre do console one è più integrata con studio one cliccando infatti sul canale della do o sul controller è possibile spostarsi velocemente sui canali come accade anche per il father port di presonus il solo e il mute sono ovviamente sincronizzati quindi il do controller è perfetto e attraverso l'apertura della finestra di controllo con shift strip possiamo accedere direttamente al controllo e alla selezione del tipo di channel strip che noi vogliamo utilizzare in questa sezione possiamo configurare gli algoritmi di emulazione infatti premendo appunto shift strip avremo modo di scegliere il tipo di console da emulare passando dalla ssl 4000 e alla 9000 ogni pulsante come abbiamo visto possiede delle funzioni primarie in bianco e delle funzioni secondarie in giallo accessibili con il pulsante shift qui in basso a sinistra e nel caso di apertura dell'interfaccia della select console che vediamo possiamo utilizzare il volume quindi in questo caso diventa il select per scegliere quale tipo di console andare ad emulare possiamo passare appunto dalla ssl 4000 e alla serie 9000 della serie sempre ssl per passare poi sulle console one british classe a summit american eccetera eccetera che ricalcano ovviamente le emulazioni di alcuni niv o api nel caso di american qualora nel caso volessimo creare un nostro channel strip personale possiamo ad esempio scegliere di iniziare con una ssl 4000 ok per selezionare e poi scegliere di combinare quello che noi vediamo nell'interfaccia in maniera personale quindi ad esempio utilizzare il circuito di ingresso dell'ssl per poi shift e q selezionarci un equalizzatore proveniente da uno ad esempio dei plugin da una delle altre console o addirittura uno dei plugin che viene sviluppato da softtube come ad esempio l'abby road box l'active equalizer l'american classe a eccetera eccetera l'equalizzatore passivo e tantissimi altri algoritmi che troviamo qui sotto fino al tube tech la ua d universal audio e infine un derivato del vice viene chiamato gambit prendiamo ad esempio in esame il tube tech classic channel ok in questo caso l'emulazione che viene caricata nell'equalizzatore è quella del tube tech e lo vediamo qui in alto scritto stesso discorso per il compressore quindi shift compressor accediamo alla pagina dove possiamo scegliere il tipo di compressore da utilizzare su questo canale ad esempio il fat channel ad esempio il fat compressor sarebbe l'1176 facciamo ok e abbiamo già adesso a disposizione questo quindi la nostra channel trip è assolutamente configurabile e utilissima nel caso volessimo dei setup molto particolari di cui spesso abbiamo bisogno in alcuni tipi di mix o di mastering per spostarci sugli altri canali come vediamo il selettore va da 1 a 20 e poi subito dopo da 21 a 40 dobbiamo cercare di muoverci utilizzando i page up e down in questo caso infatti diventa 21 fino a 40 per andare oltre scegliamo sempre page up e ovviamente diventerà 41 42 43 eccetera eccetera fino al master bass 60 e poi accediamo direttamente ai bass che troviamo qui synth, effects, guitar eccetera eccetera fino ad arrivare al nostro master bass finale che rappresenta il 75 si chiama main come vediamo anche il colore cambia diventa più bianco quindi più chiaro semplice da utilizzare come come impostazione non ci resta che configurare il nostro mix e provare a farlo con l'utilizzo di soft tube console 1 ci vediamo nel prossimo video per proseguire l'esplorazione dell'interfaccia l'utilizzo nel mix e ovviamente l'ascolto vero e proprio di questo di questo sistema di mixing collegato esternamente al nostro computer rimanete sintonizzati ci vediamo nel prossimo episodio spero che questo tutorial vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito pro audio learning.com o jgr studios.com dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata fronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirci su facebook youtube e music off se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti iscrivetevi anche al canale patreon dove ne troverete altri esclusivi ogni mese per il momento è tutto ciao a presto ciao